Cristina ci siamo eh! Ho conosciuto quel bel ragazzo del tuo marito, sono Gianna, mi riconosci? Cristina? Gianna! E ti mando questa maglietta firmata da me. Guarda che ti aspetto a un concerto, non fare scherzi, Cristina, ti aspetto. Il bacio ed ancora una volta l'affetto di Gianna Nannini per Cristina Rosi, la 39enne a retina, colpita nel luglio 2020 da un arresto cardiaco al settimo mese di gravidanza che aveva provocato danni neurologici a lei e alla figlia Caterina, nata con un parto cesario d'urgenza. Cristina è una fan di Gianna Nannini e la cantautrice in questi due anni ha registrato messaggi e video per lei. Adesso a Firenze, prima del concerto, ha incontrato il marito Gabriele sulla t-shirt per Cristina, con il volto della Nannini, un autografo della rock star senese ed un cuoricino. Anche il cuore, che spettacolo, vai! Il calvario di Cristina era iniziato il 23 luglio 2020, dopo l'arresto cardiaco era entrata in coma, aveva ripreso conoscenza dopo 11 mesi ed era così iniziato un lungo percorso riabilitativo in una clinica austriaca, poi in ritorno in Italia ed ancora ad Arezzo all'Istituto Agazzi dove attualmente è ospite. Qualche settimana fa, per la prima volta, Cristina è potuta tornare a casa ed ha abbracciato la piccola Caterina, un incontro atteso due anni. Un primo passo verso il graduale reinserimento della giovane donna in famiglia assieme al marito e alla figlia. Proprio per questo motivo Gabriele aveva anche lanciato una nuova raccolta fondi. Grazie. Grazie.